Partiamo ancora dal match tra il Milan, tra il Nizza e il Milan di sabato scorso per affrontare un argomento caro a tutti, l'argomento Leao. Un giocatore che indubbiamente forse per la sua postura, forse per il suo modo di stare in campo, sinceramente non ha ancora affascinato i tifosi del Milan. Tanto è vero, e non mi metto lontano anch'io, quando si parla di Auge o di Leao, anche a me questo modo di giocare più nevrile, più continuo, più spumeggiante in certi atteggiamenti di corsa e di continuità di Auge, indubbiamente mi fanno pensare che non è meglio avere un giocatore. No, il Milan non la pensa così. Il giocatore contro il Nizza è piaciuto. È piaciuto non solo dal momento che si è spostato sulla fascia con Pioni che ha inventato un Krunic o un Diaz lì in mezzo per creare Varchi sfruttando le qualità più di giocatore di fascia che centrale di Leao. No, non è solo piaciuto da quel momento, ma anche prima il Milan ha apprezzato l'atteggiamento propositivo del giocatore pronto ad aiutare i compagni e dispiace all'ambiente rosso-nero che questo non venga ancora apprezzato pienamente in Leao. Leao che pure viene lodato per la sua classe, per i suoi spunti, per i suoi gol, perché quando si presenta davanti al portiere poi non è che sbagli, perché lo ricordiamo davanti al portiere a Parma, davanti al portiere a Reggio Emilia contro il Sassuolo e davanti al portiere è spietato. Però è un invito magari ad apprezzarlo sempre di più. D'altra parte il Leao centravanti probabilmente non lo vedremo più perché torna Ibraimovic, speriamo, alla fine del mese pronto per giocare o meglio per essere a disposizione per le ultime partite. C'è Giroud e quindi con Giroud là davanti ci saranno meno occasioni, per fortuna, di vedere Leao centravanti. Poi potrebbe essere una soluzione temporanea in partita, magari per far respirare Giroud, ma quando il Milan avrà i due centravanti là davanti, visto che gioca sempre con 4-4-2, ma il secondo è più Rebic o Leao che Giroud Ibraimovic, perché qualcuno dice Giroud e Ibraimovic insieme. Io non ci credo per un motivo, perché avendo una punta centrale raramente gli allenatori mettono i due giocatori dello stesso ruolo in partenza per poi non avere alternative. Quindi tornando a Leao, il giocatore sento di dire il mio titolo è forte, col rischio di fare brutta figura, ma ho scritto Leao è incedibile. Aggiungo qua nel video, speriamo che tutti vedano il video così non si fermino al titolo, sempre che non arrivi l'offertona 25-30 milioni di euro e allora sapete qualsiasi giocatore o quasi qualsiasi giocatore non è incedibile in caso di offerta importante secondo le valutazioni del singolo giocatore. Dunque Leao è incedibile. Leao è incedibile, lasciate stare gli scambi anche più fantomatici. Ames Rodríguez Leao ho letto qualche giorno fa, mi dispiace ma non esiste. Vi ho già detto ieri che la qualità è preponderante negli prossimi acquisti e Ames Rodríguez ce l'ha, ma soprattutto la fame e per un giocatore di una certa età, prendo Ames Rodríguez e potrei prendere Isco o quei giocatori di questa tipologia, la fame è importante. Quindi Leao è incedibile, gustiamocelo, lo vedremo spesso e solo a sinistra e già contro la parida contro il Valencia, probabilmente sarà lui con Giroud centroavanti con Rebic pronto a subentrare. Rebic che si è trovato bene anche nel 4-4-2 a un certo punto studiato da Pioli. Per quello che riguarda quello che più interessa, gli acquisti, signori è una pausa, ripeto, lunga di riflessione perché i giocatori fino adesso nominati non sono i candidati ad essere i prossimi acquisti. Questo è quello che trapela e dunque vedremo già anche l'idea del terzo giovane attaccante dopo l'opportunità che il Milan ha lasciato, non è diventata più un'opportunità ma un investimento perché quando si guarda anche il discorso di Caio Giorgio non ci si deve fermare al denaro dato al Santos, all'ingaggio non altissimo, ma come si sa nelle trattative c'è anche la parola commissioni, c'è anche la parte delle commissioni che può far cambiare una trattativa in base alle commissioni, trattativa che può essere non alta per quello che riguarda l'ingaggio, non alta per quello che riguarda l'indennizzo alla squadra, ma le commissioni sono una parte preponderante. Quindi non è detto come dicevo che arrivi il terzo attaccante e per quello perché Giroud e Ibrahimovic dovrebbero dare le garanzie, certo poi ci sono le evoluzioni di questo mese e delle prossime aichevoli. C'è da dire una cosa che vorrei tanto sapere, vorrei tanto conoscere le ipotesi o i giocatori o le figure che sono sulla scrivania del quarto piano di casa Milan per la fascia destra e per il numero 10, perché indubbiamente il Milan cercherà qualità, però non ho idea quali nomi possano emergere. I nomi fino adesso, anche Ziyech che comporta una trattativa lunga e pesante con il Chelsea, pur essendo uno dei giocatori che più vengono apprezzati dai dirigenti, dai primi potenziali del mercato, anche lui non so se possa riuscire ad arrivare anche a fine mese. Lo stesso Baccaio Co mi ha detto di stare cauto sul nome Baccaio Co, vedremo. Intanto non è ancora trapelato nulla per quello che riguarda eventuali appuntamenti con che sì, che domani o dopo dovrebbe tornare a Milanello per gli allenamenti, lui ha evitato ovviamente ancora qualche giorno di vacanza dopo gli sforzi per le Olimpiadi, dove la Costa d'Avorio è stata eliminata dalla Spagna, pur essendo che sia confermato la sua classe, il suo carisma, la sua qualità di centrocampista fra i più forti d'Europa e dunque su questo punto vedremo. Vi terrò al corrente, non ci sono notizie in questo senso, il Milan lo vuole fare entro il mese di agosto, probabilmente entro l'inizio del campionato. La mia idea è che tutto sommato il Milan dovrà esborsare una cifra che forse non era stata calcolata, non si parla di cifre da casa Milan, non si vuole parlare di cifre a casa Milan, perché già con le cifre con Donnarumma poi sono successi problemi anche mediatici, anche di immagine, eccetera. Però vedremo per quello che riguarda che sì, vi terrò al corrente. Però il titolo di questo video, signori Leao, è incedibile, aggiungo io, salvo offerte indecente, ma in questo momento non appare all'orizzonte. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.